Nei giorni scorsi abbiamo celebrato il Dante D. Se è vero che a settembre ricorderemo i sette secoli dalla morte di Dante, durante alla nascita, sapete che il nome di Dante alla nascita era Durante degli Alighieri, poi chiamato comunemente da tutti Dante, dicevo che se a settembre ricorderemo il settimo centenario della morte, avvenuta tra il 13 e il 14 settembre del 1321, si è ricordato il 25 di marzo come il Dante D. I racconti che ci sono stati fatti, l'informazione che ci è stata data, ci dice che il giorno del Dante D. ci ricorda con tutta probabilità il giorno in cui Dante ha cominciato a scrivere la commedia. Ci viene lasciato da parte un'informazione molto importante. Perché Dante inizia a scrivere la commedia il 25 di marzo, perché è una notazione assolutamente importante che dobbiamo tenere presente. Comincia a scrivere intanto nel mezzo del cammin della sua vita, Dante ha 35 anni, quindi siamo verosimilmente, anzi quasi con certezza, nel 1300, essendo Dante nato nel 1265. E sapete che la Bibbia dice che gli anni dell'uomo sono 70, 80 per i più robusti. E quindi Dante, profondamente attento alle scritture, deduce che lui è arrivato a metà della sua vita, ai 35 anni. ma soprattutto lui comincia a scrivere questo capolavoro mondiale. Guardate che su Dante studiano studenti e professori di tutto il mondo. A Verona si fanno tutte le estati le summer school, cioè le scuole, gli incontri formativi dell'estate, e sono studiosi su Dante che vengono dal Giappone, dal Brasile, dall'Europa del Nord, dalla Russia, da tutti i paesi del mondo. E dicevo, perché comincia a scrivere la sua opera il 25 di marzo? Perché il 25 di marzo è il giorno dell'Annunciazione. E Dante, che grande cristiano che scruta le scritture, Dante sa che in quel giorno è cominciata la storia della nostra salvezza. L'uomo non più abbandonato al suo triste destino, ma l'uomo che viene preso in mano da un Dio che ha cura di lui. Sapete che nella biblioteca capitolare di Verona, che ho l'onore di servire come prefetto, sono custodite delle epistole di Dante. Noi ne abbiamo una copia perché non esiste nessun originale scritto da Dante, ma noi ne abbiamo una rarissima copia del XV secolo, quindi un secolo dopo la morte di Dante, in cui il grande poeta scrive a Can Grande della Scala, allora Dante è ospite a Verona, probabilmente per la terza volta dal 1312 al 1319 e 1320, e scrive a Can Grande della Scala il motivo per cui sta scrivendo il Paradiso. Dante, quando viene a Verona nel 1312, ha scritto l'inferno e una parte del purgatorio e a Verona finirà il purgatorio e scriverà il Paradiso. E dicevo, in questa epistola che abbiamo in una versione del XV secolo, Dante scrive a Can Grande perché ha scritto la Comedia. Sapete che tutti noi siamo abituati a parlare di divina commedia, in realtà il nome divina commedia è un titolo che dà boccaccio nel XV secolo per indicare che l'opera che aveva scritto Dante era talmente grande che era qualcosa di divino, oltre che trattare anche di argomenti teologici. Però Dante in realtà non voleva questo, lui scrivendo a Can Grande dice io ho voluto scrivere la comedia, proprio alla greca, non la comedia, ma la comedia alla greca, una parola che vuol dire sostanzialmente il canto del villaggio, cioè nella divina commedia c'è il racconto della vita degli uomini in tutte le sue dimensioni, perché c'è dentro non solo la vita spirituale, teologica, ma c'è dentro la politica, c'è dentro il peccato, i vizi, le virtù, c'è dentro l'astronomia, c'è dentro la scienza. Insomma tutto il sapere umano in qualche maniera è condensato. Ho assistito una volta a una lezione bellissima di un professore americano il quale chiedeva ai suoi studenti, perché ti è piaciuta la commedia? E questi rispondevano perché ho trovato questo, questo, questo e la risposta era dentro ci siamo tutti perché in questa comedia, in questo canto del villaggio del popolo c'è tutto quello che succede nella vita. Ma aggiunge Dante c'è un secondo motivo importante per cui lui scrive la commedia, perché lo dice nella cultura greca la commedia si differenzia dalla tragedia e da che cosa si differenzia la commedia dalla tragedia? La commedia si differenzia perché parte da una situazione di peccato, di male, di tristezza per approdare una situazione di libertà, di gioia, di rinascita, di vittoria. Quindi quando Dante scrive la commedia vuol dire noi siamo sì immersi nell'inferno, nel peccato, anche in questa vita siamo immersi nel male, ma il nostro cammino è un cammino verso la libertà e quindi è un cammino verso lo star bene, la gioia, la risurrezione, la rinascita. Ecco ricordate sempre che la differenza della commedia o della commedia, chiamiamola più praticamente così, è proprio che ci porta sempre alla speranza. Quindi l'umanità nonostante il male, la sofferenza, i disastri che capitano intorno, l'umanità non deve avere paura perché noi siamo chiamati a una grande speranza. A differenza della tragedia, dove si parte sempre da situazioni di potere, regge situazioni molto importanti, il potere delle armi, il potere degli eserciti, il potere della cultura, ma finisce sempre nel male. Ecco la differenza tra la commedia e la tragedia in senso greco. E dicevo, Dante proprio lo dice chiaramente, che lui vuole scrivere la commedia perché dice che vuole raccontare la vita del popolo, ma soprattutto approdare a questi lidi di speranza. E allora capite il grande messaggio morale che ci viene da Dante. Del resto basterebbe che noi consultassimo un altro dei codici che riguarda le opere di Dante, un altro codice che abbiamo nella biblioteca capitolare, la vita nuova. La vita nuova scritta, il codice che abbiamo qui noi in biblioteca è un codice che è stato scritto, se non ancora Dante in vita, pochissimo dopo. E comunque nella vita nuova sapete che Dante mette insieme, a partire dal 1290, dopo aver appreso della morte di Beatrice, mette insieme un insieme di sonnetti, una raccolta di sonnetti che aveva scritto negli anni. E sostanzialmente è un libro dedicato a Beatrice. Sapete che lui aveva visto Beatrice due volte, all'età di nove anni, e aveva capito che in quella creatura c'era una grande donna, c'era un grande personaggio. E poi Dante rincontrerà Beatrice quando ha 18 anni, se ne invaghisce, ma lei era già sposata e quindi per Dante finisce un sogno, una speranza. E però pian piano l'idea di Beatrice si purifica e diventa l'idea del bene, la bellezza e il bene. Addirittura qualcuno dice che Beatrice, che è un personaggio che lui incontrerà nel paradiso, sia, per qualcuno dice addirittura la metafora di Cristo, la bellezza e il bene della vita di Cristo che ci conduce. Dante con Beatrice non ha avuto nessuno, se non due incontri così fortuiti, casuali, e però Dante capisce che in lei c'è una forza che lo trascina verso il bene. Allora qualcuno dice che addirittura Beatrice possa essere l'immagine stessa di Cristo che ci conduce verso il bene, oppure l'immagine stessa della teologia con la stessa funzione. Lui scriverà, lui scriverà, metterà in bocca a Beatrice nel paradiso al capitolo quinto, il versetto 71, queste parole che io vi leggo. Siate cristiani a muovervi più gravi, cioè abbiate consistenza, non siate delle foglie al vento, non siate come penna ad ogni vento e non crediate che ogni l'acqua vi lavi, cioè non pensate di essere perdonati a buon mercato. Avete il Novo e Vecchio Testamento, avete la parola di Dio, pensate l'attualità di Dante che ci consegna la parola di Dio come sorgente di salvezza, è il pastor della chiesa che vi guida, cioè avete il Papa. E Dante scrive in un periodo in cui i papi qualche volta era meglio non ascoltarli che seguirli. Questo vi basti a vostro salvamento. Se mala cupidigia altro vi grida, se siete attratti da altra cupidigia che vi trasporta ad avere una vita non cristiana, uomini siate e non pecore mate. Sì che il giudeo di voi tra voi non rida, per fare in modo che gli ebrei che avete in mezzo a voi, che sono ligi nel rispetto della legge, non possano ridere di voi. Ma vorrei chiudere questa consegnandovi una frase di San Bernardo bellissima, con gli occhi spalancati davanti alla Vergine, dopo la laude, dopo quel famosissimo inno alla Vergine del canto 33, dove San Bernardo dice alla Madonna, vinca tua guardia i movimenti umani. Cioè la tua protezione, la tua tutela, vinca ciò le nostre azioni e le tenga lontane del male. Davvero Dante è una meditazione che non finisce mai.